Mari Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati, il cuore delle persone non è qualcosa che puoi comprendere solo perché dici di volerlo fare. Mari Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati, la coppia nata sotto i riflettori della quattordicesima edizione del Grande Fratello si è detta addio. A confermare la notizia è la stessa Mari su Facebook, Mari Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati, si sono lasciati Mari Falconieri e Giovanni Angiolini, il cuore delle persone non è qualcosa che puoi comprendere solo perché dici di volerlo fare, troppo facile. Ci vuole molto altro, ci vuole coraggio, ci vuole paura, ci vuole follia. Se non hai paura significa che non sei davvero consapevole di quello in cui ti stai cacciando, e se non sei abbastanza folle, il coraggio per superarla, la paura, non lo troverai mai. Poi serve poesia, tanta poesia. Che la vita di quelli che amiamo ha bisogno di musica e carezze, e quando va in mille pezzi, la loro vita, serve pazienza per recuperarli tutti, per cercarli negli angoli nascosti, in quelli più bui, sporti e dimenticati, con cura, dolcezza, attenzione, per rimetterli al loro posto, uno per uno, ha scritto Mari sulla sua pagina Facebook. Il post pubblicato da Mari su Facebook, e, poi ci vogliono abbracci, di quelli che ti scaldano il cuore quando fa freddo dentro, quelli che spengono la paura del futuro, che ti fanno sentire meno solo, quegli abbracci in cui ti verdi e ti ritrovi, in cui ti nascondi dal mondo e forse un po' anche da te stesso, quelli che ti permettono di piangere senza vergognartene o dare spiegazioni, quelli che ti spingono a pensare che ce la farai, che andrà tutto bene. Andrà tutto bene, ha concluso la talconieri, la coppia si era conosciuta nella casa del grande fratello, Mari ha anche chiesto ai Fendi chiudere tutti i gruppi social dedicati e lei a Giovanni, tanto di coppia non si parla più. La fabola è finita pochi mesi dopo che la falconieri, supportata da Angiolini, ha subito un intervento di doppia mastectomia per prevenire il cancro al seno Mari Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati, il cuore delle persone non è qualcosa che puoi comprendere solo perché dici di volerlo fare Mari Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati, la coppia nata sotto i riflettori della quattordicesima edizione del grande fratello si è detta a zio. A confermare la notizia è la stessa Mari su Facebook, Mari Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati, si sono lasciati Mari Falconieri e Giovanni Angiolini, il cuore delle persone non è qualcosa che puoi comprendere solo perché dici di volerlo fare, troppo facile, ci vuole molto altro, ci vuole coraggio, ci vuole paura, ci vuole follia. Se non hai paura significa che non sei davvero consapevole di quello in cui ti stai cacciando, e se non sei abbastanza folle, il coraggio per superarla, la paura, non lo troverai mai, poi serve poesia, tanta poesia. Che la vita di quelli che amiamo ha bisogno di musica e carezze, e quando va in mille pezzi, la loro vita, serve pazienza per recuperarli tutti, per cercarli negli angoli nascosti, in quelli più bui, sporchi e dimenticati, con cura, dolcezza, attenzione, per rimetterli al loro posto, uno per uno, ha scritto Mari sulla sua pagina Facebook. Il post pubblicato da Mari su Facebook, e, poi ci vogliono abbracci, di quelli che ti scaldano il cuore quando fa freddo dentro, quelli che spengono la paura del futuro, che ti fanno sentire meno solo, quegli abbracci in cui ti perdi e ti ritrovi, in cui ti nascondi dal mondo e forse un po' anche da te stesso. Quelli che ti permettono di piangere senza vergognartene o dare spiegazioni. Grazie. 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 Grazie.